E allora io voglio spendere due minuti per questi maestri, miei colleghe e miei colleghi. Adesso ve li presento, iniziamo da Alessia. Wow! Viva! Adriano. Lucrezia. Asana. Marco. Divina. Iniziata. Sabrina. Il nostro computer. In questo gruppo c'era anche la maestra Sara, che purtroppo ha avuto un infortunio. La maestra Sara parlava con Marco Buccella. E siccome abbiamo questa ragazza con le corvino che è bravissima e impiega pochissimo a imparare le coreografie, ce la siamo presi in prestito, che farà la parte di Sara. Quindi buona visione. Buona visione a tutti. Abbiamo sentito. Oh! Buona visione a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti